Pace e bene di Fr. Alessio Bognolo. Qui in Italia questa sera comincia l'apostasia della nazione. Io dico l'apostasia comincia questa sera perché questa sera sarà usato in tutte le chiese cottoliche della nazione un messale nuovo stampato da Jorge Mario Bergoglio, l'argentino che controlla il Vaticano, in cui ha cambiato le parole del Padre Nostro, cioè che ha cambiato le parole di Nostro Signore Gesù Cristo. E questa è l'apostasia perché nella religione cristiana c'è soltanto unico solo maestro, nostro Signore Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, Dio stesso. Di presumere o ossare di cambiare le parole dei padri nostri e di dire che Gesù non sa pregare, non sa scegliere le parole giuste per noi. O è di dire che tutti i apostoli, tutti i padri della Chiesa e tutta la Chiesa per due mili anni non sapeva capire quali erano le parole di Gesù Cristo. E così si macchia la reputazione del Spirito Santo perché di dire tale cose è di dire che il Spirito Santo ha fallito di mantenere la verità del Padre Nostro tra i secoli. E tutte e due di queste cose sono bestemmie al Spirito Santo e al nostro Signore Gesù Cristo. E quindi anche grandissime bestemmie contro il Dio Padre. Quindi tutti quelli cristiani che dicono il nuovo Padre Nostro non sono più cristiani, sono bergogliani. E dobbiamo dire questa verità a tutti. Non dire quella preghiera. Non entrare in quelle chiese dove dicono questa preghiera falsa. Perché questa non è cristianità. Cristianità viene da Gesù, non viene da Jorge Mario Bergoglio. Pace bene. Grazie.